Un saluto, come state, ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto, lasciare un bel like, iscrivervi da questa parte, attivate anche la campanella, mi raccomando. Allora, come può essere il Milan di Conte? Giochiamo un po' oggi, in attesa ovviamente che le cose possano definirsi, anche se secondo il mio collega amico Luca Mombrano sono già definite. Ragioniamo insieme a voce alta su quella che potrebbe essere la formazione con questa squadra. Prima vi ricordo comunque di lasciare un bel like e di iscrivervi da questa parte. Il Milan con Conte, come può essere? Un Milan che deve confermare Mignan, che deve però rinnovare. Si gioca con il suo modulo preferito 3-5-2. I difensori, Ciao, Tomori, Calulu a oggi, però ovvio che debba fare un paio di innesti, di cui uno molto importante. A centrocampo ci possono essere Ben Nasser, Love to Surenders, ma anche lì un innesto importante serve. E poi sulla sinistra ovviamente è Teo Hernandez, che nel ruolo di quinto verrebbe esaltato. Sulla destra mancherebbe la figura, e lì andrebbe ad operare. Sappiamo che lui, insomma, guarda anche in casa Napoli e credo che di Lorenzo sarebbe un profilo gradito. E poi Dura davanti, allora Leao potrebbe essere adattato seconda punta, però credo che, insomma, nella sua testa lui vorrebbe una prima punta vera e una seconda punta vera. Pulisic, secondo me, può essere... non è vero che è escluso, perché Pulisic spesso quest'anno poi è stato decisivo in area, quindi, secondo me, può fare la seconda punta Pulisic, magari non sempre, magari facendo il coltitolare, e serve una punta di livello. Se giochi con il 3-4-3, invece, a quel punto devi cambiare qualcosa sempre in mezzo, sul laterale di destra, là davanti puoi fare invece Pulisic, Leao e la punta. Vediamo un po' cosa succede, però, ecco, credo che soprattutto qualcosa a destra servirà sicuramente, qualcosa in attacco e qualcosa a centrocampo, più difesa. Quindi mi aspetto un'operazione per reparto se arriverà. Ditemi che ne pensate e chi non vedete di questo Milan nel Milan di Conte, quali operazioni eventualmente servirebbero per reparto. Scatenatevi, lasciate un bel like, commentate, la cosa che possiamo dire è che per Conte questa squadra comunque non sarebbe da stravolgere. Effettivamente, un innesto in difesa, uno a centrocampo, uno o due in attacco, poi ovviamente quello sulla destra sarebbero comunque 4-5 operazioni, non poco. Però non credo che vorrebbe tagliare tanti di questi giocatori, da quello che abbiamo raccolto. Scatenatevi!